Ecco qui stiamo facendo, stiamo scendendo, dove stiamo andando adesso? La Madonna di Pompei, la chiesetta della Madonna. Ecco, scendendo dalla Castel San D'Angelo, vedete, attraverso queste scaline, arriviamo alla Madonna di Pompei. Non è che, per carità, però guardate che panorama, guardate. Dai, queste passeggiate tornano utili, perché non è che può stare sempre seduto. Oh, il problema è che non lo sapevo, pensavo di andare sul mare. Non è anche io, perché dovevamo andare al porto. Siccome i nostri, i generali sono sempre, noi ve l'abbiamo chiesto perché se volevate vedere queste saldande. Eh, come si faceva? No, 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 no. Perciò, voglio dire, dovete capire che ma è chiarata? No, 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 va bene, al limite la faccio solo io. Che c'hai le scarpe buone! Poi continuate a scendere e poi io vi prendo dalla parte di dietro. Mi sacrifico io, anche perché mi fa bene farmi sta salire. Non la farei volentieri? almeno dimagrisco 500 anni certo quindi pigliare un chilo poi quindi pigliare un chilo, certo eh la cicerona eh? capito? ehi cicerona ecco qua, siamo arrivati ma beffa almeno è ecco qua ecco la madonna non è un portone l'hanno vi fatto nuovo sì beh dalla molliccia qua sotto c'è un attimo un'attimo di crocca scavata ecco i due ragazzi ecco i due ragazzi magari un gallo ecco il gallo no quello un tacchino un tacchino un tacchino un tacchino sì era discesa quindi è stato facile per lui arrivare è proprio da privato si può entrare si può entrare entriamo questa è Santa Maria la vetere da non confondere con Santa Maria Capo a vetere che siamo sempre all'icata sì ecco le ragazze non confondere con la mia Qua sotto c'è la grangela, i rifiuti aerei. Qua? Qua sotto. Ma quello che c'è? Sì, c'è un po' di grangela, però... Sotto c'è un po' di grangela. Non li cadavano a mare, quelli qui c'è, c'è un po' di grangela.